Facendo questo lavoro si torna un po' a bambire e adesso facciamo come gli altri, giochiamo col pallone. Conciremmo un contatto sempre tra di noi, non vi lego oggi, questo però non deve cadere che non si torna un po' a bambino. cosa sono le proprie rispetto a noi, niente, ciao a tutti alla prossima